Ben otto, tutti per lui. Jürgen Klisman, l'uomo nuovo dei campioni d'Italia, si presenta così. Ventunesimo minuto, Bianchi lancia il tedesco, pallonetto di Klisman, che salta a Fadoni, ma sana sulla linea, salva il Varese. L'esordio dei campioni d'Italia ha promosso fin dal primo minuto il centravanti tedesco, anche se contro il Varese squadra di C2, nel primo tempo i titolari di Trappatoni non sono riusciti ad andare in gol. I nerazzurri da sei giorni sono in ritiro e devono ancora perfezionare i movimenti. Velo Serena? Ma ecco al 34esimo uno dei nuovi schemi dell'interattrazione tedesca. Fuga di Klisman, ponte di Serena e Bianchi spara su Fadoni. Sfiorato il gol, le luci di Masnago rischiano di spegnersi sul contropiede di Tatti. Ferri salva in angolo. Trappatoni al castello sforzesco aveva chiesto ai suoi prodi di continuare a giocare con Grinta e Serena al 45esimo riesce ad arrabbiarsi per questo volo che gli fa fare Paolillo. L'arbitro è ancora in vacanza. Per vedere i gol nel calcio di luglio bisogna però aspettare il secondo tempo. Il trap manda in campo le riserve e Cucchi, vice Matteus, aiutato dal braccio di Sogliano, sblocca così il risultato. È il primo gol al 49esimo minuto dell'Inter 89-90. Intanto Andreas Breme, che si è perso la rete di Cucchi, corre in tribuna ed è il capitano supplente Beppe Baresi a ricordargli come si segna nell'Inter. È il 27esimo. Passano due minuti e l'altra riserva di lusso, Morello, fa il 3-0. I titolari sono avvertiti. La molto importante è vedere in questo primo tempo, dopo cinque giorni e dopo il primo blocco di lavoro, la condizione. Mi sembra che abbiamo spinto solo noi, del resto non potevo avere la pretesa che il Varese ci impensierisse una certa misura. Magari siamo stati un po' troppo laboriosi nella manovra perché si è giocato un po' tutti e forse non siamo sfociati nel gioco abituale che c'era così, oramai ci aveva abituato e passato a stagione. Però è solo primo impatto, aspettiamoci anche avversari più competitivi in modo che ci impegnino anche che gli spazi siano maggiori e così avremo modo anche di vedere crescere la squadra.